Proteggi la tua privacy con la VPN McAfee. L'utilizzo di una VPN, una rete privata virtuale, salvaguarda la tua privacy online e protegge i tuoi dati da hacker, fornitori di servizi internet e altre terze parti. La VPN offre tre grandi vantaggi. Vantaggio 1. Accesso anonimo a internet. Senza una VPN, chiunque può vedere i tuoi dati personali. Terze parti possono analizzare quali siti web visiti e le azioni che esegui. Chiunque può utilizzare questi dati per individuare la tua identità ed abusarne. Una VPN codifica i tuoi dati personali e li mantiene al sicuro. Ti permette di utilizzare internet in modo anonimo. Vantaggio 2. Protezione sulle reti dati pubbliche. Senza una VPN, chiunque utilizzi una rete pubblica può accedere ai tuoi dati. Una solida crittografia protegge i tuoi dati e le tue attività online da occhi indiscreti quando utilizzi reti pubbliche. Vantaggio 3. Posizioni VPN virtuali. Alcuni contenuti online possono essere consultati solo da alcune zone geografiche, perciò non sono disponibili in altri paesi. Quando utilizzi una VPN, puoi scegliere la tua posizione di accesso virtuale. Collegandoti a server virtuali distribuiti in sé e disparse in tutto il mondo, puoi aggirare il blocco geografico ed accedere a contenuti, applicazioni e siti web con limitazioni territoriali. Per proteggerti in modo affidabile in viaggio e a casa, McAfee ti offre protezione antivirus con la VPN inclusa, per un massimo di 5 dispositivi e dati illimitati. McAfee Live Save e VPN per la tua privacy online, a casa o in viaggio.